Primo giorno di scuola del 2018, primo giorno di sciopero. Migliaia di maestre protestano dopo che il Consiglio di Stato ha messo fuori dalle graduatoria a esaurimento i docenti con diploma magistrale. Lo sciopero riguarda il 30% degli insegnanti delle materne e delle primarie. A Vicenza e nella provincia verica circa 2000 maestri precari. Sul caso interviene anche il presidente veneto, Luca Zaia, che ha espresso la propria solidarietà agli insegnanti. La loro protesta è fondata e condivisibile. Insegnare è una vocazione e nessuna norma può permettersi di trascurare il valore dell'esperienza.